Ah, mi sa che mi ci devo aggraffare io Ma che è succedo? No, assettate, assettate Mostra il funga Olia Fantastico Mostra il funga Olia, è stupendo Ok, ok No Ma si è girata la... E lo sai che io ho questo vizio di palpare i Diablos Quando meno se ne aspettano Io vado sotto e faccio popi, popi Wow Ho troppo avvicinato Oh Fantastico Non so se devo andare di là Vieni È stato un piacere Penserà un nome per la tua bestia E se la chiamassi grazie al cazzo? Ehi, grazie al cazzo Vieni qui Però... Però... Oh cavolo Dannazione a me È al tasto della granata Ah, 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 ah Uh, c'è uno L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto Oh, anche no No, mi sembrava di... Ah, no, sta qua dietro se è così non c'è problema il personale posso sostituirlo quante volte voglio la priorità adesso è stabilizzare il maggi reattore raduna con la massima urgente alzo il personale ok ci riprovo wow per dirlo alla victor sullivan che mi venga un colpo che mi venga un colpo si vuol bambino cioè ma dai ma Evan non sa neanche correre ha le gambe più lunghe ma Evan è inutile ma no sono prontissimo no 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 è Ma... Nooo! Per me il gioco finisce qua. Eeeh, eeeh... Questa, secondo me, è ancora meglio. Arco. Più ti avvicini alla fine, più ti stressi. E' verissimo. Eeeh... Eeeh... Anche tu, Sam, restate tutte e due là. Non vi muovete! Non vi muovete! Eeeh... Ma no! Ma è una dimostrazione d'affetto! Eeeh... Eeeh... Eeeh...